Voi lavorate per lo Stato e una quota enorme del vostro fatturato non finisce nella vostra tasca ma ritorna allo Stato e quindi nel lavorare per lo Stato avete i soldi in cassa. Quei soldi in cassa la sera diventano appetibili per i rapinatori quindi dal punto di vista della sicurezza voi siete destinatari di un rischio sicurezza individuale che nasce dal vostro servizio per conto dello Stato. Qual è il punto essenziale? Che noi dobbiamo dare una svolta rendendo ciascuno di voi non solo il braccio dello Stato, insieme dobbiamo fare sì con sistemi di videosorveglianza finanziati che non siate solo il braccio dello Stato ma che siate anche l'occhio dello Stato. E faremo in modo tale che così sia e quindi l'idea che io lancio qui è quella di creare una specie di task force antirapine e sulla sicurezza per quanto riguarda i tabaccai italiani. Questa è la proposta.